Ciao a tutti studenti disperati di giurisprudenza, perché immagino che difficilmente qualcun altro possa voler guardare un video su Kelsen. Sono qui per introdurvi il suo pensiero nel modo più veloce e facile possibile e aiutarvi a superare l'esame. Vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere like e già che ci siete anche a condividerlo, così, sulla fiducia, mentre parte la sigla. Sigla! Kelsen vuole fare la scienza del diritto e per fare questo ha bisogno di risolvere due problemi. Il primo è come garantire l'obiettività di questa scienza e il secondo è che cos'è il diritto e come funziona. Partiamo dal primo problema. Come garantire l'obiettività? Per fare questo lui lavora per dissociazione, cioè se farà la teoria pura del diritto, che si occupa di capire che cos'è il diritto e come funziona, come deve essere. Dalle altre discipline, come la storia del diritto, che si occupa di come nasce il diritto, la politica del diritto, che cerca di capire se un determinato ordinamento va pro o contro i suoi interessi, dalla morale del diritto, che in base ai propri principi cerca di capire se le norme siano buone o ingiuste. E la sociologia del diritto, che si preoccupa di capire come un ordinamento giuridico, cioè un insieme di norme che prescrivono come le cose devono essere, e quindi i solen, entra in relazione con come le cose effettivamente sono, e quindi l'essere, il sei, l'essere reale della società. In questo la differenza tra la sociologia del diritto e la teoria pura del diritto è proprio la stessa che c'è tra fisica e matematica, dove la fisica si preoccupa di capire come la matematica, che è un insieme di dover essere, di come le cose in teoria dovrebbero andare, si può applicare a come le cose effettivamente sono, quindi ai corpi reali. Mentre invece la matematica si interessa soltanto delle idee matematiche, quindi di come le cose funzionano logicamente, senza preoccuparsi dell'applicabilità nella vita quotidiana. Perciò Kelsen, a fine di garantire l'obiettività della teoria pura del diritto, la separa da tutte le altre discipline. E afferma che della norma non gli interessa quando è nata, se sia giusto o sbagliata, né interpretarla in base a un determinato ordinamento politico. Perché qui entrano in ballo le opinioni che sono soggettive, e per lui è purare, purificare, perciò puro, il diritto da queste, vuol dire renderlo più obiettivo e perciò più scientifico. Passiamo ora al secondo problema. Che cos'è il diritto? E come funziona? Elaborare una teoria generale del diritto vuol dire spiegare ciò che accomuna, quindi che in generale è comune, a tutti gli ordinamenti giuridici particolari. Che cos'è il diritto? È un insieme di norme. Che cos'è la norma per Kelsen? È un dovere essere. Cioè un'imposizione che segue lo schema se A, allora B. Se A rubi, B ti taglio le mani. È giusto? Non è giusto? Non ci interessa. Di queste valutazioni soggettive se ne occupano la politica, la morale, la sociologia. Ma la scienza pura del diritto non vuole valutare. Si limita a descrivere. E che cosa descrive? Descrive quali sono le strutture degli ordinamenti giuridici. Ogni ordinamento giuridico ne è una a sé stante. Ma per Kelsen ci sono almeno tre caratteristiche che accomunano tutte. Uno, la Grundnorm. Come suono tedesco. Ovvero, ognuno ha la sua norma fondamentale da cui derivano tutte le altre. Questa è più che altro un escamotage per rimanere sempre nell'ambito del dover essere. E quindi ipotizza che ci sia un usurpatore iniziale o un gruppo di persone che hanno fatto una prima costituzione antica da cui poi sono scaturite tutte le altre e di conseguenza tutte le altre leggi. Due, la necessità del principio di conformità della legge inferiore a quella superiore. Questo è fondamentale per la coerenza dell'intero sistema. Cioè, se la Costituzione afferma il valore della vita degli animali non puoi fare una legge che permette la caccia senza andare in contraddizione con la Costituzione. Quindi, è come se la norma inferiore dovesse prendere la forma da quella superiore. Altrimenti, il sistema diventa contraddittorio. E infine, il punto numero tre. Come ho già detto, è lo schema fondamentale della norma. Ovvero, se A, allora B. Dove B diventa la sanzione che rende la norma efficace. Quindi, questo vuol dire che le leggi non sono il riflesso della società che le genera? Ma allora non possiamo più giudicare se una norma sia giusta o meno? Ma certo che possiamo giudicarlo. E sicuramente le leggi sono il riflesso della società che le genera. Solo che Kelsen non può permettersi di affermarlo perché dovrebbe tirare in ballo delle valutazioni soggettive che sono estrane alla sua scienza. Le valutazioni spettano ai cittadini, ai politici, a chi si occupa di morale e di sociologia. Ovvero, di tutte quelle discipline da cui egli prende le distanze. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato chiaro. E adesso, se volete andare bene all'esame, dovete taggare almeno tre amici quando lo condividete. Perché dovete condividerlo, altrimenti l'esame vi va male. E dovete anche scrivere bellissimo, fantastico, finalmente capito Kelsen, super consigliato. Nell'iscrivervi, mi raccomando, di cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdere i video che arriveranno. Di tutto ciò, grazie sempre di seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!